Sappiamo che è un avversario ostico, ma detto questo a noi ci deve interessare poco, la mentalità che ci deve contraddistinguere è quella di provarci sempre dove i calciatori siano protagonisti e quindi noi metteremo in campo la stessa mentalità con la quale avete visto il Teramo nelle prime uscite stagionali. Sapendo che tutto ciò può anche non bastare, però l'unica cosa che chiederò alla squadra è quella di non avere rimpianti al novantesimo, noi dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo provato, ognuno di loro deve esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, poi se al novantesimo gli avversari saranno stati più bravi gli daremo la mano, però prima di batterci o di precluderci di farci risultato sicuramente troveranno un Teramo che sul campo vuole provare a vincere la partita o a fare sicuramente una prestazione molto positiva.